Tutta a vetrana in piazza, cittadini e amministratori insieme per dire no allo scarico a mare del costruendo depuratore. 12 ore in interrotte di manifestazione, dai blocchi stradali in mattinata con flash mob e mezzi agricoli alla serrata totale e prolungata di tutte le attività commerciali, per finire in serata con un foltissimo corteo per le vie del paese. Sindaco e gonfalone cittadino in testa, a vetrana ha due risorse fondamentali, agricoltura e turismo. La condotta e lo scarico a mare rovinerebbero l'una e l'altra. Mario De Marco. Parliamo di bandiere blu, parliamo di turismo, di mare, di tutto ciò che è il Salento, tutte le bellezze. Naturalmente promuoviamo attraverso tutte le forme, anche il GAL, la Comunità Europea, quelle che sono le nostre bellezze, per poi magari vederle in un batto di ciglia bruciato in questo modo. E a vetrana in questa battaglia non è sola. Ci sono le amministrazioni ed i cittadini dei comuni limitrofi della fascia ionica salentina, del Brindisino e dell'Eccese, così come quelli del territorio di Taranto, di Lizzano e Pulsano, che da tempo convivono con un'esperienza simile. Se proprio il depuratore deve farsi, dicono gli avetranesi, andrebbe spostato dalla zona protetta di Contrada-Urmo e comunque già mai le acque reflue dovranno scaricarsi a mare. Bisogna pensare al loro possibile riutilizzo.